Tutti avevano dei mobili perfetti, patinati, autoprodotti, ma puliti, bianchi, meravigliosi. E io mi sono presentata con una sedia fatta a mano tutta storta, vasi tutti storti che avevo fatto al corso in ceramica. E questo lo racconto sempre perché è divertente. Mio marito, ai tempi, mi ha detto, senti, ma li hai viste le cose degli altri? Cioè, sei ancora in tempo a tirarti indietro? C'è una frase, una citazione che mi è sempre piaciuta molto, che viene attribuita sempre ad artisti o scrittori diversi, che recita Don't forget to play. È una frase che ha questo gusto un po' picassiano, ma che sembra anche uscita da una maglietta di Threadless dei primi anni 2000, ma che mi è sempre piaciuta perché racconta un modo spontaneo, giocoso, infantile di riuscire a creare. Ed è una frase che ho sempre immaginato potesse raccontare, almeno in parte, il lavoro dell'ospite di oggi, Elena Salmistraru. Grazie mille di essere qui. Grazie, grazie a te. Designer, artista, illustratrice, pittrice. Adesso ci racconterai anche quali sono tutti i mondi in cui tu ti sei avventurata. È un piacere averti qui, grazie mille. Grazie, anche per me è un onore, insomma, sono molto contenta. La prima domanda che ti voglio fare è, ti senti che questa frase ti si addica, Don't forget to play? Assolutamente. Cioè per me, ecco, il mio lavoro è ovviamente un lavoro, chiaro, è una cosa seria, però è anche una grande passione, è un divertimento, è un sogno. E tutto il mio processo creativo comunque passa dal gioco. Anch'io sono una persona molto, lo vedi come sono, sono diciamo molto allegra anche. E spesso nei miei lavori la vedi questa componente ludica, qualcosa a cui tengo molto. Anzi, questo mio lato un po' fanciullesco, proprio lo rivendico, voglio che emerga, no? È un po' come il fanciullino di Giovanni Pascoli che si emoziona in continuazione per tutto. Io proprio voglio mantenerlo sempre vivo. Secondo me uscirà tante volte durante questa chiacchierata. Io ti ho conosciuto anni fa, non so se fosse il 2017-2018, avevi fatto un'installazione per Timmerland a Milano, in zona Porta Garibaldi. Daphne, Daphne. Ed era questa giostra bellissima. E io ho pensato, che bello questo elemento di giocosità, ma anche il desiderio di scatenare nello spettatore un sorriso o comunque un rimando a una nostalgia del passato. E mi chiedevo quanto tu ti fossi divertita nel creare quell'opera. Moltissimo. Tra l'altro, se te lo ricordi, era un grandissimo albero, no? Che poi era il simbolo anche di Timmerland, ovviamente. Ma aveva queste grandi altalene di pelle dove proprio si poteva entrare, ti avvolgevano e riuscivi anche ad ondolarti. Era proprio, cioè, lo spettatore era parte attiva in quel contesto. Era quella la cosa che mi piaceva poi di quell'opera. Era bello anche perché dentro aveva un computerino, diciamo, abbracciando quest'albero il cuore iniziava a battere. Quindi si illuminava, batteva il cuore. È stato un lavoro anche molto lungo, devo dire la verità. Però che ci ha dato grandi soddisfazioni. I bambini impazzivano, c'era proprio un movimento attorno. Che poi è bello vedere, insomma... Assolutamente, la partecipazione del pubblico. La partecipazione, esatto. Senti, torniamo indietro, riavvolgiamo un po' il nastro. Come inizia il tuo percorso creativo? Quando è che scegli che questa può diventare la tua strada? Una professione anche. Allora, tieni conto che io ho sempre, sempre dipinto, sempre disegnato, ma fin da piccolissima. Ero una bambina molto timida che stava spesso da sole e proprio disegnavo, disegnavo, mi piaceva da matti. A un certo punto ho iniziato, però, invece di dipingere su tela, a disegnare sui mobili, su magari piccoli sgabelli. Ai tempi i miei stavo a casa con i nonni, perché ero molto piccola. I miei lavoravano tanto, lavoravano tutto il giorno. Mia nonna era una molto precisa, tra l'altro. Io disegnavo sui tavoli, sotto i tavoli. Per la sua felicità. Per la sua felicità, sui vasi, glieli modificavo. Quindi urlate a non finire. Però, piano piano, ho iniziato a capire che... Cioè, mi piaceva proprio l'idea di disegnare su degli oggetti, più che su delle tele, e l'idea che questi oggetti potessero entrare nelle case delle persone e raccontare la mia storia, ma proprio passare da nipote, non so, da madre a figlio, da nipote a nonni. Insomma, proprio passare a raccontare le storie nelle case. Volevo che entrassero nelle case, parlassero di me. E così ho iniziato ad autoprodurre i miei oggetti. Perché tieni conto che io mi sono laureata nel 2008, ho iniziato a scrivere alle prime aziende, però vabbè, ero troppo giovane, probabilmente non mi calcolavano. Aziende, tra l'altro, con cui adesso collaboro. E ho iniziato... Una sorta di... Non dico vendetta, però... Però no, vabbè di... Soddisfazione personale. Soddisfazione, sì, infatti. E quindi, con successo, che ho iniziato ad autoprodurre. Perché ho detto, cosa faccio? Cioè, mi sono rimborcata le maniche, mi sono iscritta a un corso di ceramica e ho iniziato ad autoprodurre i miei oggetti in ceramica. E così ho proprio iniziato. Da lì ho partecipato a un evento, a una mostra, dove mi hanno, diciamo, notata. Mi ha notata Giulio Cappellini, con cui collaboro ancora adesso, e Silvana Nicchiarico, con Andrea Branzi, che era la ex direttrice della Triennale di Milano, della parte design, diciamo. E da lì mi hanno aperto proprio il mondo... Ho capito che poteva diventare una professione. Anche perché nel 2017, con le mie prime esperienze con le aziende, diciamo che ho disegnato i famosi vasi scimmia, che adesso sono iconici, direi. E anche un altro mobile, Polifemo. Lì ho vinto un concorso, che era importantissimo, era un concorso del Salone del Mobile, era un premio proprio che davano ai designer, come miglior designer emergente, per aver portato dei nuovi linguaggi all'interno del mondo del design, che però è il mio linguaggio. È stato incredibile. E da lì ho capito che poteva essere, diciamo, non solo un sogno, ma una professione, ecco. Ma la risposta... Ma la risposta... Quel premio è stato un po' una consacrazione. Contemporaneamente, però, spesso il design ha questo gusto un po' più rigoroso. Com'è stato accolto questo tuo ingresso con questa esplosione di fantasia e giocosità? È stato tremendo, perché tieni conto che, appunto, nel 2009 così c'era un po' un minimalismo imperante, mi viene da dire, che arrivava poi dai paesi del nord. E io, che sono, oserei dire, una massimalista, ecco, ho avuto... Poi tutti hanno problemi, eh. Però anch'io ho avuto grosse difficoltà. Tieni conto che la primissima mostra a cui ho partecipato nel 2009, che era da Superstudio Più al Salone, in via Tortona. In via Tortona. Sono stata selezionata, appunto, c'erano, non so, 15 designer italiani, 15 stranieri, e tutti avevano dei mobili perfetti patinati, autoprodotti, ma puliti, bianchi, meravigliosi. E io mi sono presentata con, diciamo, una sedia fatta a mano tutta storta, vasi tutti storti che avevo fatto al corso in ceramica. E questo lo racconto sempre perché è divertente. Mio marito, ai tempi, mi ha detto, senti, ma li hai viste le cose degli altri? Sei ancora in tempo a tirarti indietro? E ho pensato, vabbè, cosa fa? Ormai ero lì, ero disperata, però ho detto, senti, mi lanci. Anche perché, usciti dall'università, ero appena uscita dall'università, ovviamente ti insegnano che il design è legato alla produzione in serie, sono tutte le regole del design, hanno addirittura scritto le regole del buon design. E io ovviamente avevo questa pressione addosso, però ho pensato, senti, basta, libera, andiamo, chi se ne frega, andiamo avanti. E quella è stata la mia fortuna perché è proprio lì, come ti dicevo, che mi hanno notata, perché ero un po' un pesce fuori d'acqua, era un po' una voce fuori dal coro. È stata la mia sfiga, la mia fortuna, ecco. Questo mi fa pensare a un'altra cosa. Abbiamo intervistato l'anno scorso una persona che sicuramente conosce, Annalisa Rosso, direttrice editoriale del Salone del Mobile, dei contenuti digitali, se non ricordo male. e alla domanda cos'è per te il design, lei ovviamente si riferiva al fatto che deve essere una cosa utilizzabile, la funzione prima della forma, no? Sì. O la funzione segue la forma, la forma segue la funzione. Scusa se... Sì, sì, no, no, però, era chiarissimo. Tu sei d'accordo, cioè lo vivi in questo stesso modo? No, no, cioè capisco bene il suo punto di vista, ci mancherebbe, però sei cosa, che secondo me ci deve essere anche un equilibrio. Cioè io dico sempre che per me l'emozione è la cosa più importante e l'emozione è addirittura una funzione a tutti gli effetti del... poi dell'oggetto, quindi ovviamente magari è più legata forse alla parte estetica, emotiva, però è vero che comunque la funzione... Ho visto l'intervista di Annalisa, lei parlava anche, non so, delle sedie, non so, da scrivania che diventano poi quelle... dei gamer. Esatto, quelle dei gamer. Vedi, lì ad esempio sono magari super funzionali, funzionano benissimo, però devono curare un pochettino di più la parte... spesso peccano, non sono belle, non a tutti i casi, però manca qualcosa, manca anche un'anima, manca... ecco, per me quella parte è importante. È vero anche che la funzione fondamentale, ma anche quella decade, basta che guardi, non so, i cellulari, cioè un tempo avevano i tasti, adesso scrolli, le macchine da scrivere, cioè sono degli oggetti, se sono belli, ecco, se c'è anche la parte estetica, diventano iconici e allora resistono nel tempo. Se solo funziona, non funziona, non funziona comunque. Quindi devono proprio, secondo me, convivere nel modo... anche, non so, una sedia, se è bellissima, ma poi, non so, è scomodissima, non ti puoi sedere, comunque ci vuole equilibrio, ecco, devono esserci forse entrambe le parti. Infatti lei lo riferiva tanto anche all'evoluzione della società e a quanto poi il design debba seguire quelle che sono le necessità della società che cambia. però una cosa che, una componente che stavi raccontando e che fa parte del tuo lavoro è la capacità di far raccontare delle storie agli oggetti. Come prima dicevi, io speravo che le cose che disegnavo e dipingevo a casa di mia nonna poi mi piaceva l'idea che fossero una parte di me e che quella parte di me poi possa vivere in un'altra casa, in un altro appartamento, sotto gli occhi di un'altra famiglia che gli dà un altro valore. Questa cosa dello storytelling per te è fondamentale? Sì, è fondamentale. C'è sempre stato poi ovviamente lo storytelling nel mondo del design, da tempo in memore. Però è qualcosa, cioè a me addirittura aiuta proprio a disegnare. Io parto dalla storia, tieni conto che io faccio tantissima ricerca, sto lì, ricerco, ricerco. Quando trovo la storia che proprio mi accende qualcosa allora inizio a disegnare prima forme libere poi piano piano le ripulisco ovviamente dopo le forme che disegno io liberamente devono passare a delle persone che poi creano dei modelli 3D dovevano anche essere poi ripulite queste forme. Però per me è una parte fondamentale. È vero anche che è un termine un po' abusato adesso perché tieni conto che poi non so per la stampa piuttosto che gli uffici stampa bisogna anche un po' romanzarle queste storie. A volte sono anche un po' pesanti però se come me lo utilizzi come un escamotage anche per raccontare qualcosa che ti piace ecco forse aiuta. C'era un'intervista bellissima di uno dei fondatori di Spinoza che parlava durante un TED Talk il TED Talk si chiamava Moriremo di Stolitelling nel senso che come dici tu ne abbiamo abusato a volte viene raccontata qualcosa che non necessita di un racconto emozionale no? ritornando a quello che stavi dicendo come funziona esattamente il tuo processo creativo tu dici parto dalla storia parto da quello che voglio raccontare esattamente qual è lo svolgimento della tua routine o della tua prassi creativa se c'è 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 no no c'è assolutamente tieni conto che appunto io passo magari mi affidano questo tal progetto io inizio con la ricerca mi metto le mie cupie con la musica tutta bella tranquilla che è musica no devo dire che ascolto veramente di tutto tra l'altro ormai con spotify mi guida esatto mi guidano che poi tra l'altro si continua a ripetere l'algoritmo adesso è un po' un problema in questi ultimi periodi e quindi metto poi dipende a volte ho bisogno di qualcosa di più che mi svegli a volte voglio rilassare dipende dal momento e quindi inizio liberamente proprio a cercare cerco immagini che però non sono mai vicini al mondo del design cerco sempre in altri settori anche per non farmi influenzare cioè se devo disegnare una sedia non cerco una sedia ovviamente cerco proprio tutt'altro quindi parto la ricerca ci metto anche magari dieci giorni e poi liberamente inizio a schizzare ma faccio degli schizzi che sono grandi così tipo minuscoli e ne faccio duecento quindi fai sedimentare tutto quello che hai cercato sì 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 poi in studio con le ragazze che sono tutte donne a parte mio marito sono tutte donne che lavorano con me facciamo le votazioni che fa ridere questa cosa però è utile perché io comunque cerco sempre il confronto anche con le altre persone è fondamentale però il nostro è comunque un lavoro di squadra cioè il design è un lavoro comunque di gruppo e quando ho definito quello che voglio raccontare la forma che mi piace inizio a disegnarla un po' meglio la passo mi preparano tutti i disegni tecnici perché io con il computer diciamo che non non è il mio però a me piace non hai un ottimo rapporto no 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 uso magari Procreate Illustrator quelli sì però poi modellazione 3D lascio fare a chi sa fare ecco quindi me lo ripuliscono me lo fanno poi preparo io i rendering da mandare alle aziende quelle presentazioni e dopo però inizia la parte dello scambio con l'azienda quindi l'azienda inizia a darti insomma le sue opinioni feedback feedback capiamo come insomma dopo inizia la parte di dialogo che è fondamentale ecco una cosa importante da dirti è che io sono capace di dialogare bene con l'azienda anzi sono anche un po' psicologa in questo li capisci li capisco poi ovviamente il mio linguaggio è molto molto personale io lo devo mantenere così non posso snaturarmi però capisco anche le loro esigenze questo è importante per un designer che sai ci sono quelli che si innamorano del proprio lavoro e difficilmente riescono a concedere io invece perché comunque arricchisce anche il lavoro un'opinione esterna bisogna saperla prendere poi riguardo a questo ho visto i tuoi lavori per collaborazioni con brand di tutti i tipi una delle ultime è quella fatta con Disney prima parlavamo di Timberland Apple oltre a tutti gli studi di design prima parlavi di cappellini sì 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 il fatto che loro ti chiamino perché piace il tuo approccio è quello che tu dicevi io devo mantenere comunque una cifra stilistica che non posso inquinare quanto ti piace però giocare con il brand per capire non solo qual è l'esigenza ma come si può reinterpretare la loro esigenza a me piace tantissimo perché il mio lavoro essendo molto personale io posso anche cadere nella ripetizione io posso ripetermi invece quando ho a che fare con le aziende devo dire che sono obbligata poi a diversificare a capirli e quindi nasce sempre qualcosa di nuovo a me piace tantissimo questa cosa e poi come ti dicevo il dialogo per me è fondamentale proprio mi arricchisce il mio progetto sento le loro idee poi comunque appunto adesso abbiamo citato Cappellini ma è chiaro che quando ha a che fare con una personalità come Giulio Cappellini che è un illuminato è ovvio che anzi devo anche hai anche da imparare poi certo noi dobbiamo sempre evolverci e crescere questo è fondamentale è una cosa che mi ha stupito guardando i tuoi lavori questa capacità da una parte di mantenere lo stile dall'altra di confrontarti con media oggetti sempre diversi che fanno immaginare una personalità eclettica incredibile cioè si passa dalla giostra di Timmerland perché l'abbiamo citata prima al pianoforte customizzato per Disney all'ambiente che hai creato per la lounge certo non mi ricordi il titolo The Serious Game per ambiente per la fiera di ambiente esatto quindi sono cose a cui poi riesci a trovare un filo narrativo un fil rouge che li racconta tutti che è la giocosità la fantasia il colore però poi sono media completamente diversi questa tua capacità è una cosa che ci ha sempre affascinati tantissimo io mi sforzo anche tantissimo di non annoiare perché come ti dicevo quando è un tratto così preciso così insomma un linguaggio così tuo cioè poi è un attimo che inizia a ripeterti invece io mi sforzo proprio di di non annoiare di diversificare cambiare il mio lavoro per quello che poi lo vedi e poi il mio lavoro è molto trasversale cioè a me piace proprio sconfinare cioè andare passare da una disciplina all'altra vedi che io non so posso lavorare nella moda piuttosto che nell'illustrazione nel design quindi però mantenendo il mio segno ecco ma se qualcuno te lo chiede tu come ti definisci artista illustratrice pittrice designer cioè c'è una definizione che secondo te riesce a condensare tutto no perché allora spesso me lo chiedono io non mi sono mai posta in realtà questa domanda perché io lavoro liberamente però spesso me lo chiedono e ho iniziato a pensarci anch'io io mi definisco designer ma perché la mia produzione è principalmente fatta di oggetti però vedi tipo non so dipingo adesso sto preparando una mostra personale a novembre ovviamente siete invitatissimi alla galleria Colombo quindi è tutta una mostra di dipinti e sculture per esempio ho lavorato per la moda non saprei come definirmi sono un po' un ibrido ecco a me piace cioè perché secondo me poi l'ibridazione arricchisce il progetto quindi non voglio precludermi niente chiaro che non appartengo poi a nessuna comunità perché ovviamente non so i designer magari non mi riconoscono come designer gli artisti non mi riconoscono come artista gli illustratori neanche quindi c'è sono un po' vado avanti ti piace essere un outsider? ecco sono un outsider vera sì mi piace devo dire che mi piace all'inizio ne soffrivo però eh ho sofferto tanto per questa cosa poi piano piano ho iniziato a capirmi ad accettarmi forse adesso mi rispettano forse tu volevi rientrare in una di queste categorie con più convinzione cioè desideravi essere parte di una di queste comunità no sai che no ci sto pensando ti guardo così perché ci sto pensando no 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 io ho bisogno di esprimermi questo è ecco forse in questo sono più artista perché ho bisogno proprio di esprimere sfogare un istinto creativo o raccontare vedi come voglio raccontare qualcosa di mio di personale quindi in questo sono più vicina magari a un artista cioè il designer risolve dei problemi appunto non so capisce quali sono i bisogni della società per risolvere problemi progetta l'artista si esprime no ti emoziona ecco non lo so in certe cose sono più artista in certe più designer però è vero che disegno principalmente oggetti ecco a proposito dei tuoi mondi ci sono questa universo parallelo fatto di personaggi di mostri che poi non sono spaventosi ma da dove nasce questa immaginario tieni conto che come ti dicevo una bambina molto timida che stava sempre a casa non avevo tanti amici poi stavo con i nonni insomma e ho iniziato ad appassionarmi diciamo delle storie un po' horror volevo vedere i film dell'orrore che mi facevano vedere mia nonna a pezzettini però perché ero piccola ovviamente e io ho sempre avuto questa avevo paura ma li volevo poi disegnare ho iniziato così a disegnare tutti questi personaggi che mi spaventavano che poi piano piano negli anni a fura di disegnarli disegnarli sono diventati un po' dei compagni di viaggio è stata una terapia ho esorcizzato un po' un esorcismo esatto le mie paure quindi ho iniziato così e poi ho capito che a me piacciono i personaggi vedi che io sono ricorrenti poi nei miei lavori i personaggi come mate grifo come i vasi primates cioè li trovi e li riconosci diventano una costante cioè li ho proprio strappati dalla tela e li ho fatti diventare tridimensionali a un certo punto e sono tutti dei personaggi che adesso mi fanno compagnia questa è anche la cosa cioè proprio sono degli amici anche li riconosci li riconosco ma quelli erano questi film che volevi vedere uno proprio il massimo per me era lo squalo tra l'altro questa cosa è divertente a un certo punto la maestra siccome io disegnavo un'isola dove c'ero io i miei parenti e gli squali attorno hanno chiamato i miei per dire scusate ma a casa tutto bene perché la bambina fa dei disegni strani cosa li fate vedere però quello era proprio un must per me lo squalo che adesso ci fa ridere ovviamente se lo vedino però ecco ma tanti poi vabbè anche quando poi sono cresciuta a me piacevano tanto magari i film di Tim Burton insomma cioè comunque a me piacciono quei personaggi quello un po' l'immaginario un po' dark un po' dark anche a volte però vedi che i miei mostri sono molto felici poi non sono inquietanti il gusto magari viene da quel immaginario lì dei mondi fantastici un po' virati verso il dark però poi tu li illumini li illumino poi sono maniaca del colore della texture mi piacciono proprio i pattern quindi poi li rinterpreto a modo mio ecco a parte queste ispirazioni cinematografiche che mi fanno venire in mente anche un po' al mio passo io mi ricordo che c'era il venerdì horror ma certo l'estate negli anni 90 che era una cosa che mi terrorizzava ma avevo il tuo stesso passione problema problema sì da una parte volevo vederli dall'altra mi terrorizzava perché la notte di Halloween scusa no vabbè a parte questo ci sono delle altre artisti correnti che poi hanno influito nella costruzione di questo tuo immaginario guarda io in realtà cioè influisce quello che mi piace al momento devo dire cambia molto è molto mutevole ma perché io stessa sono sempre alla ricerca di me stessa cambio spesso anch'io sì probabilmente tieni conto che io ho studiato al liceo artistico quindi poi tutto il mondo dell'arte ma anche non so della street art per dire ho tanti amici street artist ma anche tutti non so Blue Osgemeos insomma tutti quel mondo lì o anche Memphis ovviamente io sono figlia degli anni 80 e quindi anche tutto il post moderno tutto quel periodo sicuramente però io non sono una fan nel senso una fanatica di anche prima abbiamo parlato in musica quando ascolto la musica per dire cioè non so mi piacciono i radio ma magari non ascolto tutto solo non so quattro canzoni altre non mi piacciono quindi vario tanto dipende dipende molto però le influenze possono essere forse quelle sì certo bellissimo prima parlavamo di storytelling cioè di questa necessità anche umana di raccontare delle storie attraverso gli oggetti in questa epoca che viviamo che diventa un po' sempre più fredda da una parte o comunque sintetica con l'intelligenza artificiale secondo te diventa sempre più importante fare in modo che ci sia dell'umanità negli oggetti oppure dobbiamo anche accettare certe tendenze cercare di scoprirle allora dobbiamo accettarle cercare di scoprirle anche perché ci possono aiutare tanto io sono più analogica attenzione certo prima ci dicevi il computer non è il mio il computer non è proprio il mio però sì dobbiamo cercare comunque l'intelligenza artificiale adesso ci aiuta in tutto basta i testi non so le traduzioni bisogna capire anche come saperle sfruttare poi questi questi strumenti certo che potrebbero anche sovrastarci a un certo punto se non siamo io però sono sempre più c'è il piacere della carta cioè di disegnare sulla carta di sentire il rumore della della graffite sulla carta cioè quelle cose lì per me sono impagabili quindi io rimango ancora analogica però l'intelligenza artificiale di tutto quel mondo ci aiuterà sicuramente velocizza velocizza il progetto il processo scusa guarda anche per i progetti adesso ci sono addirittura degli strumenti con cui tu puoi tirare due righe e addirittura si crea non so una lampada cioè tu hai proprio delle immagini e tra l'altro sta cambiando anche tanto il nostro gusto perché vedi comunque che le immagini sono molto non so con dei colori accesi cioè cambia proprio il gusto sta cambiando un po' tutto il mondo quindi bisogna tenerla d'occhio sicuramente però io continuo intanto così piano piano vediamo come evolverci prima prima di iniziare a registrare parlavamo di un altro progetto bellissimo che mi ha affascinato e che hai portato a termine l'anno scorso che è un libro illustrato quindi ti sei confrontata con un altro media per dare sfogo sempre a questo tuo desiderio di disegnare di rendere visibile un mondo che hai dentro ci puoi raccontare un po' del progetto? certo certo allora sono stata tieni conto che io avevo già collaborato con il Sole 24 Ore per una collezione di accessori diciamo e mi hanno detto ma Elena dato che ti piace tanto disegnare ma perché non facciamo un libro insieme? ho detto va bene proviamo che cosa facciamo? le favole di Esopo che comunque è parte che sono tantissime le favole di Esopo e ho pensato va bene cioè proviamo non è stato semplicissimo perché guarda che è stato un lavoro lunghissimo che ho fatto di notte mentre diciamo che ovviamente ho tutti i miei lavori da chiudere ovviamente quello era insomma lo facevo quasi a tempo perso è stata una cosa lunghissima ma anche dare tutte le espressioni a questi personaggi poi certe storie anche raccontarle per i bambini perché è un libro per i bambini di 7-8 anni diciamo è stato mica tanto è stato complesso perché certe storie sono quasi splatter sono proprio a noi che piacciono il film cioè sono veramente ce n'è una tipo l'aquila e la volpe che è cattivissima cioè l'aquila si mangia i figli della volpe la volpe si vede cioè anche disegnarla come fai adesso a disegnare una cosa del genere quindi insomma ho dovuto trovare tutti degli escamotage sai che è stato proprio un bel lavoro perché poi per me disegnare è anche terapia quello l'ho fatto ad esempio con Procreate quindi non a mano però è stato poi sta andando molto bene è un libro che sta andando bene quindi ci sta dando anche tante soddisfazioni abbiamo riscritto tutte le storie insomma scelte selezionate e sei partita da delle influenze cioè c'erano degli autori che ti piacevano che avevi seguito oppure anche lì qua no qua proprio non ho guardato niente sono partita così diretta ho fatto proprio quello che mi piaceva hai scavato nel tuo immaginario sì 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 non mi sono ispirata proprio a niente perché per quello è stato semplice e poi mi sono avevo io ho due figli Greta e Ettore che una ha otto anni proprio e l'altro quattro mi sono immaginata di disegnare qualcosa per loro forse per quello è stato semplice gliele ho lette queste storie gliele ho lette sono piaciute certo no no mi sono piaciute molto è bello questa cosa che poi uno si confronta con il proprio pubblico di riferimento per fare dei test prima con parlavi faccio dei bozzetti e poi li faccio votare scrivo una storia vediamo se funziona sì no anzi Greta che è appunto la più grande proprio intervenì mentre disegnava cioè com'è la volpe va bene sì sì alza la sopracciglia proprio commentava quindi mi ha anche aiutata in questo c'è una storia che riguarda un famosissimo fumettista italiano che si chiama Andrea Pazienza certo certo che conosco e lui racconta Igor che dopo aver scritto le sue storielline le leggeva davanti ai suoi amici proprio per capire se scatenavano la reazione giusta se il ritmo della narrazione vignetta per vignetta era quello che funzionava di più quindi questa attitudine anche al confronto a capire qual è la risposta è una cosa divertentista è divertente è anche importante quindi vedi poi sono critiche mia figlia è critica quindi perfetto quello che serve per capire senza filtri senza filtri tra tutti i progetti che hai portato avanti in questi due anni gli ultimi due anni sono stati abbastanza intensi probabilmente lo sono da tanto tempo io mi sono sono andato indietro nella cronologia ti conosco da tanto tempo ma poi mi sono soffermato negli ultimi due anni ce n'è uno a cui sei più affezionata negli ultimi due anni sto pensando perché quello a cui sono più affezionata sono quei vasi scimmia perché sono partita da lì ovviamente però non sono degli ultimi due anni negli ultimi anni forse il progetto che ho disegnato per Cedit sono delle lastre in gress porcellanato di grandi dimensioni loro fanno lastre di grandi dimensioni che però hanno sia la parte estetica molto importante perché se tu le guardi ovviamente sono tutte delle mie grafiche ma anche una parte di innovazione perché quando le abbiamo disegnate abbiamo con una particolare stampa a freddo ricreato tutto un effetto tridimensionale materico quindi ho voluto per dire ricreare la trama e l'ordito dei tessuti ma tu su queste lastre di gress non sono più fredde non è più gress senti proprio la trama e l'ordito ti sembra tessuto quindi cioè è stato un lavoro è stato un lavoro lungo che però racconta a me il mio percorso abbiamo chiamato Chimera perché era un po' diciamo un mix di tanti miei modi miei mondi ho parlato del colore dell'empatia io sono una persona molto empatica insomma è un lavoro che mi descrive bene e ha la parte diciamo innovativa ma anche quella estetica ecco e poi è prodotta in grande serie era il mio mondo il mio design applicato alla grande serie industriale questo probabilmente è un po' un progetto maturo ecco mi viene da dire non so se mi sono spiegata bene assolutamente perché poi non vederle è difficile anche forse capire di che cosa sto parlando ma magari poi le mostreremo in alcuni dei contenuti che creeremo per raccontare questa intervista e c'è uno un cliente in particolare che ti ha chiamato e che ti ha fatto piacere che ti chiamasse nel senso che è stata una grande soddisfazione sentirti chiamata da un brand che non ti aspettavi potesse sposare il tuo gusto e la tua estetica beh sicuramente una delle ultime è Stanway cioè quello è Disney è Disney sì abbiamo fatto una collaborazione Stanway e Disney per i diciamo i cent'anni di Mickey Mouse che è già un'icona lui da solo Mickey insomma quindi è stato anche è stato no non è vero che è stato semplice perché comunque lavorare su un'icona del genere è anche pericoloso infatti era questo che ti volevo chiedere confrontarsi con con un'icona confrontarsi con un'icona è pericoloso però io devo dire che ho avuto rispetto comunque non ho non ho usato troppo e poi come lavora Stanway sono andata a vedere a New York tutta la produzione come fanno ancora a mano tutti questi pianoforte il suono che hanno questi pianoforte quello è stato veramente mi ha dato proprio soddisfazione ecco e lì devo ringraziare Luca Nicchetto che ha fatto dar director di questa operazione che insomma ha visto in me del potenziale insomma è stato è stato proprio bello qual è la cosa che ti piace di più nel processo di produzione di un oggetto cioè del tuo lavoro dall'inizio alla fine all'oggetto pronto qual è la fase che tu ami? la fase che io amo è quando lo vedo la prima volta realizzato che lo vedi che è vivo che è lì e dici ce l'ho fatta ce l'ho fatta è come quando ti nasce un figlio non so neanche spiegarti la sensazione che tu ci hai lavorato tanto ci hai lavorato mesi poi vai in azienda te lo fanno vedere lì quella è una cosa emozionante è una cosa sì proprio molto emozionante leggevo anche quest'altra cosa che dicevi che a te piace la produzione insieme nel senso da una parte metti una grandissima cura su ciascun oggetto che produci però poi hai il desiderio che quell'oggetto venga riprodotto più volte perché vada a colpire l'immaginario di più persone è quello sì è quello guarda io ho capito questa cosa io ho sempre detto io voglio unire il mondo dell'arte il mondo del design voglio non so anche all'inizio volevo dipingere sugli oggetti quando ero molto molto giovane poi una volta che ancora ero studentessa al Politecnico ho fatto un laboratorio dove c'erano un laboratorio tra l'altro dove c'era proprio la ceramica a me che piace la ceramica avevo proprio creato tanti vasetti di ceramica e vederli tutti insieme e immaginarmeli poi nelle varie case cioè lì ho proprio provato cioè mi sembra proprio ho sentito quella quell'emozione che poi io vado sempre a cercare e lì ho detto boh probabilmente a me piace anche la produzione in serie non è vero che io sia una solo da pezzo unico da limited edition perché è chiaro che uno quando guarda i miei pezzi subito pensa alle serie limitate però non è esattamente così perché insomma vedi che tanti pezzi ad esempio abbiamo parlato delle lastre di Cedit che è il gruppo Florim e lì è proprio una produzione in serie ma tanti non so il tavolo che ho fatto per cappellini ma anche i vasi primates comunque sono chiaro che sono tutti dipinti a mano dall'artigiano però comunque sono insomma sempre prodotti seriali ecco all'inizio parlavi del fatto che ti hai ripresentata una fiera non mi ricordo quella in via Tortona sì con una sedia certo come mai i designer si confrontano sempre con la sedia guarda la sedia è l'oggetto del desiderio del designer e che poi è una pazzia anch'io eh mi ci metto dentro tutti vogliamo disegnare la sedia ma in realtà è una pazzia perché è l'oggetto più complesso da disegnare tieni conto che non so devi pensare all'ergonomia deve essere leggera che non so impilabile adesso io invento cioè comunque è proprio ci vuole uno studio forse deve essere l'ultimo oggetto però uno nell'immaginario comune no la sedia è il design io stessa ci sono caduta ho disegnato subito delle sedie quella lì era di carta era di carta pesta fatta a mano ogni tanto le gallerie me la chiedono e dico no valore inestimabile quella non si vende lì non si tocca e ho disegnato altre due sedie di legno pesantissime con il tondino metallico però sono dei ricordi che tengo in studio per me hanno un valore altissimo ovviamente e non so guarda questo non lo so è proprio il pezzo è il pezzo che però è l'iconicità dell'oggetto è la sfida è proprio la sfida ma poi il mercato è saturo proprio di queste il design dovrebbe stare lontano però non ce ne stanchiamo mai alla fine è quello e io ho disegnato poi quella sedia per bottega intreccio che insomma è stata una è stata bella perché e lì c'era anche tutto lo storytelling ovviamente perché ho voluto raccontare questa storia di io sono andata a Mogliano che è nelle Marche dove c'è proprio il distretto dell'intreccio non tutti lo sanno perché è una cosa proprio è bellissimo era un paese dove tu passavi per queste vie e c'erano tutti gli artigiani anziani che intrecciavano ma veramente bisogna andare guarda a Mogliano ed io ho voluto raccontare la storia di questa famiglia che ha portato l'intreccio a Mogliano si chiama famiglia Maurizzi che poi sono i proprietari di bottega intreccio e di questa Lisetta si chiama così la sedia che era la nonna era un po' la matriarca della famiglia che era proprio materna però e quindi mi sono immaginata come immaginati un grande cilindro fuori scala che però ti abbraccia quindi è una sedia un po' un abbraccio tu entri ti coccola ed è tutta intrecciata a mano e questa è stata però vedi questo è un po' più un trono che una sedia quindi però questa cosa della storia che si lega comunque anche al nome che tu di volta in volta trovi all'opera quanto è difficile trovare il nome giusto per l'opera cavolo cioè che studio quanto ci studi ma il nome è difficilissimo poi alla fine forse la parte più lunga ci sono delle persone portatissime io non sono così portata però vedi c'è qualcosa che magari non so Lisetta era semplicissimo è perfetto è perfetto è perfetto altre ci perdo giornate addirittura anche lì si va a votazioni cioè tu certo si va a votazioni sì 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 assolutamente fantastico senti prima parlavamo di The Lounge a Serious Game sì perché è un gioco serio? allora il design per me è un gioco serio allora io questo lo devo dire credo che la mia generazione ma anche poi più giovani di me siano un po' stufi di questa austerità di questa finta a volte anche serietà del mondo del design siamo un pochettino stufi non so se ti è mai capitato di andare a delle conferenze dove ci sono magari questi architetti che sono troppo impegnati a trovare non so la parolona ad effetto utilizzare un determinato linguaggio ma poi non ti trasmettono niente cioè tu esci e dici ma che cosa ha detto abbiamo parlato con i ragazzi di caffè design qualche settimana fa ok ecco questa cosa qua è veramente ha veramente stufato io penso che siamo stufi di queste cose noi possiamo è per questo che ho chiamato Serious Game possiamo trattare degli argomenti comunque serissimi comunque delicati ma sempre con un sorriso guarda c'era Gianni Rodari che diceva ma perché dobbiamo insegnare piangendo qualcosa a un bambino quando può imparare la stessa cosa ridendo sorridendo che tra l'altro ti rimane anche più impressa cioè se la impari giocando ecco questo è un po' il principio che vorrei applicare poi è per questo che ho chiamato l'installazione che era molto giocosa Serious Game ovviamente mi sono ispirata al Flipper mi piaceva perché mi sono immaginata delle persone come delle palline che rimbalzano impazziscono all'interno di questa lounge mi ha chiamato la fiera di ambiente che mi ha nominata designer dell'anno esatto quindi è stata una grandissima soddisfazione una grande soddisfazione anche perché poi è all'estero tieni conto che l'anno prima ero designer dell'anno per Frame che è una bellissima rivista di architetture e design in Olanda e ovviamente dà più soddisfazione perché quando è in Italia dove ormai l'ambiente è minuscolo ci conosciamo tutti chiaro che magari il premio te lo dà un tuo amico ha un sapore diverso va bene perché i riconoscimenti fanno piacere a tutti ecco però lì insomma qualcosa di più qui mi hanno nominata designer dell'anno e ho disegnato tutta l'area lounge della fiera che insomma era anche bella grossa io poi non sono un architetto quindi io mi lancio in queste però vabbè in studio ho tutti architetti ingegneri comunque ce la caviamo e ho voluto raccontare questo gioco che però è un gioco serio comunque abbiamo all'interno di quest'area lounge c'era una mostra una mostra di oggetti tutti tema gioco ecco li ho selezionati dalle varie aziende tutti tema giocoso non so i vasi di Rosenthal con il nodo piuttosto che per il colore e dall'altra parte c'era proprio un'area lounge dove tu ti rilassavi lavoravi al computer mangiavi un panino ecco quindi è stato un bel esperimento poi molto colorato quindi attirato anche molto l'attenzione è andata bene mi sono trovata bene con i tedeschi di ambiente ecco non si direbbe mai dai tedeschi no però guarda che lavorano bene ovviamente lavorano bene sono seri ma è stato anche divertente perché stavi facendo un parallelismo bellissimo con Gianni Rodari sì che veicolava questa cosa del gioco cioè insegnava la grammatica attraverso il gioco lasciava i finali aperti da far scegliere a chi leggeva le sue storie un autore secondo me incredibile ti piacerebbe disegnare qualcuna delle sue storie? ma certo ce n'è una che preferisci? no che ti viene in mente? no in realtà no dovrei rivedere perché poi io le devo io devo vederle io comunque devo andare a fare la mia bella ricerca con le cuffie rivederle e poi lì con tranquillità capire io lo sai che non riesco di getto a capire subito cosa voglio fare ho proprio bisogno di tempo in quello io sono una molto decisa molto sicura quando lavoro ma poi in tutta la parte di ispirazione ho bisogno dei miei tempi e voglio essere tra l'altro da sola che io ti ho detto mi piace lavorare in gruppo in quella parte lì sono sola proprio tu la tua musica? sì non voglio è un lavoro intimo non voglio neanche sentir parlare proprio è strano da me però sì ho bisogno di solitudine è una sorta di concentrazione zen sì di concentrazione zen bravo è vero è vero fantastico io ti immagino io ti immagino con le cuffie con le colonne sonore dello studio Ghibli ma poi magari in realtà stai ascoltando la musica metal sì sì può essere in un'altra intervista ho letto un'altra cosa che mi ha affascinato tantissimo che era che ci sono dei momenti nel corso del tuo lavoro di progettazione che ti emozionano più di altri cioè che ti commuovono forse lo dicevi il riferimento al disegno in un'intervista che ho letto su The Vision sto pensando a cosa ho detto però mi aveva affascinato questa cosa del sentire talmente tanto la propria spinta emotiva nel produrre qualcosa che era quasi un trasporto commovente è ancora così c'è ancora qualcosa che ti commuove quando la fai che ti prende così tanto da appassionarti è sempre così o è così a volte è così a volte infatti sto pensando a dei lavori che sto facendo ultimamente che non mi commuovono proprio per niente sì a volte sì però mi commuovo forse quando parlo di me quando qualcosa mi ricorda la mia infanzia la Elena bambina quello mi tocca io ho questi momenti però il mio lavoro io gioco tanto sull'emozione per me l'emozione è fondamentale appunto quando lavoro mi emoziono spesso e mi piace l'idea di poter trasmettere questa emozione a qualcun altro a te o a chi comunque poi avrà questo cioè che capisca qual era il mio stato d'animo questo succede di più forse con i dipinti però ecco questa forse è la filosofia alla base del tuo lavoro questa è la filosofia alla base del mio lavoro il desiderio di far di coinvolgere emotivamente le persone di coinvolgere emotivamente sì assolutamente poi vabbè non sono la prima ovviamente che fa questa cosa è già stata fatta però ecco non so Mendini ad esempio lavorava sull'emozione per lui era importantissimo però ecco direi che anche per me è qualcosa di fondamentale sì fantastico c'è qualche progetto su cui stai lavorando adesso che dobbiamo aspettare con con ansia sì solo che la tragedia è che sono quasi tutti top secret hai firmato dell'NDA e non ci puoi raccontare sì posso dirti che sto già lavorando per il Salone del Mobile 2025 e ci saranno anche quest'anno 17 cose diverse dovrai costruire una mappa per indicarci tutte le cose che possiamo ci saranno delle cose interessanti sicuramente che una cosa che mi piace dire è che continuo non so la collaborazione con Bosa piuttosto che con Cappellini e questo per me è importante l'Itea per il Marmo questo è bello perché fa capire che comunque collaboriamo bene e mi richiamano c'è una continuità ecco quello di sicuro io poi preferisco sempre lavorare con persone che umanamente mi trasmettono anche qualcosa ecco quando capisco subito che non c'è feeling iniziale preferisco lasciar perdere addirittura vorrei farti due ultime domande la prima è un modo per riattaccarci all'inizio e tu dicevi una cosa che mi piace che mi emoziona è parlare di me e ritornare al passato tra l'altro io sono timida cioè non è che mi piace io preferisco disegnare rispetto riesci a nasconderlo veramente è bene quanto riesci ancora a scavare nel tuo immaginario del passato nella tua infanzia per continuare a produrre delle cose oggi ti viene facile è una cosa che continui a fare cerco di non mi viene così facile perché ovviamente abbiamo tante collaborazioni cioè è quello che ci stiamo strutturando quindi abbiamo a che fare sempre con aziende magari sempre più grandi dove comunque devi stare attenti ad altri fattori necessità necessità diciamo così e quindi spesso non riesco a esprimermi come vorrei forse questo succede più quando lavoro con delle aziende con delle dimensioni più contenute quindi la libertà è diversa e magari riesco a parlare non so di me di qualche mia passione quando parlo dei personaggi ad esempio abbiamo parlato prima di queste scimmie o di Matte e Grifo dove racconto delle mie storie riesco a ritirare fuori quei personaggi mostruosi che mi spaventavano che però mi erano anche amici ecco quello lo faccio quello mi emoziona di più ovviamente è chiaro che non avviene più non sempre e la mostra di dipinti a cui ci hai invitato alla Galleria Colombo ripercorre un po' un tuo percorso cioè quanto c'è del tuo passato di quello che ti emoziona di più c'è ti dico solo che sono tutti mostri posso solo dire che sono tutti mostri praticamente abbiamo adesso non posso non voglio svelare troppo però sì sono tutti coloratissimi tutti texturizzati cioè proprio parla di me parla del mio mondo delle mie passioni dei miei interessi sì 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 assolutamente va bene non vediamo l'ora di vederla bene bene ti faccio l'ultima domanda che è una domanda di dito facile spero sì la più facile ah va bene chiediamo sempre al nostro ospite chi secondo lui potrebbe essere chi ci consiglia per una prossima intervista di Spigola chi ti immagini seduta dove sei seduta tu adesso a fare due chiacchiere con noi beh forse qualcuno che faccia magari un designer ma che faccia qualcosa di totalmente diverso da quel che faccio io potrebbe essere ti viene in mente un nome di qualcuno sì tipo adesso mi è venuta in mente Elisa Ossino che è una bravissima designer che è molto minimale molto anche poetica molto minimale lei potrebbe essere un ha una visione sicuramente diversa dalla mia un contraltare sì sì lei forse va bene ci se ci ascolti sarebbe molto bello averti qui nella prossima puntata di Spigola bene grazie mille Elena grazie è stato bellissimo grazie alla prossima ciao 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 Spigola è una serie prodotta da Collateral Podcast questa puntata è presentata da Alessandro Timpanaro il coordinamento editoriale è di produzione di Giulia Guido riprese e montaggio sono di Andrea Gianni e Susanna Giammona la visual identity è curata da Paola Mangiarotti questa puntata è scritta da Valentina Rizzo Giulia Guido e Alessandro Timpanaro il coordinamento tecnico è di Cristiano Di Capua le fotografie di Andres Juan Suarez la parte social è curata da Giordana Bonanno e Leila Stabile il set design del collettivo Parasite seguiteci su Instagram e TikTok per non perdere le novità sui prossimi episodi